La prima delle due nevicate previste per i giorni della Merla non è stata particolarmente intensa. I fiocchi, che hanno cominciato a cadere nella mattinata di ieri, non hanno prodotto particolari problemi né imbiancato la pianura. Nonostante le allerte meteo, la situazione relativa alla viabilità è sempre stata sotto controllo sia sulle provinciali che sulle autostrade che attraversano il Piacentino. Oggi è prevista una breve pausa con un miglioramento causato dallo spostamento verso est della perturbazione nord-atlantica. Già dalla serata però, spiega l'esperto di Meteovalnure.it Vittorio Marzio, un nuovo vortice, questa volta di origine atlantica e quindi più caldo e umido, arriverà da ovest andando a scorrere sopra la massa d'aria fredda che ancora staziona sulla pianura padana, portando nuove nevicate previste per domani. Gli accumuli al suolo saranno più consistenti, spiega l'esperto, con circa 10-15 centimetri in pianura e una trentina in quota. Le zone più colpite saranno quelle centro-occidentali della provincia, mentre in quelle sud-orientali i fiocchi inizieranno già dal pomeriggio di domani a trasformarsi in pioggia a causa di una corrente calda proveniente da sud-est. Sabato è previsto un miglioramento che si estenderà a tutto il Piacentino con temperature in aumento a tutte le quote. Non è da imputare invece alle condizioni del meteo il cedimento sulla strada che porta a Gelati nel paese di Gropparello, che si è verificato questa mattina. La situazione era già nota e oggi c'è stato un ulteriore peggioramento, ha spiegato la Polizia Municipale dell'Unione Valnure-Valchero. Il Comune ha predisposto la chiusura della via e le deviazioni alternative, in attesa di determinare quali lavori saranno necessari e i tempi per la realizzazione.